Prevenire i tumori o anche curarli spesso non è solo questione di esami o di chemioterapia, ma anche di alimentazione. Secondo 23 medici di 10 specializzazioni diverse della provincia di Bari, infatti, è importante seguire il paziente nella quotidianità, dall'alimentazione al luogo in cui vive e al lavoro che svolge. Per questo è nata la fondazione Dino Leone Onlus che ha aperto già 9 ambulatori a Bari, Noi Cattaro, Castellana, Monopoli, Gioia, Santeramo, Altamura e Ruvo. Abbiamo creato un sito dal titolo cancerworld.it, abbiamo scelto un nome in inglese perché vorremmo che tutti i medici della comunità europea possano unirsi a noi in questa ricerca e quindi attraverso il sito, ricevendo una password, ogni medico può inserire i dati relativi ai propri pazienti. Contro gli OGM dunque, a favore di una dieta mediterranea di buona qualità, la fondazione sta lavorando con la Lega Coop che ha dimostrato interesse per il progetto. Per quanto riguarda i prodotti, noi continueremo a fare quello che stiamo cercando di fare ormai da anni con alcune cooperative in modo particolare, soprattutto nel settore dell'ortofrutta e insieme a loro definiremo il numero dei prodotti ortofrutticoli, ortaggi in modo particolare, che possono aiutare a star meglio. Chiunque volesse prenotare una visita può farlo chiamando al numero verde 800 135 870 Il Comune di Bari ha accolto volentieri l'iniziativa anche perché ha già intrapreso come amministrazione il progetto Bari contro il cancro.